Cari tifosi del Napoli, è il vostro capitano che vi parla. Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere per la prima volta i quarti di finale. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza disordini, senza liti con chi arriverà in città, non solo allo stadio, ma per le strade, nelle piazze, ovunque nella nostra meravigliosa città. Come vostro capitano vi chiedo dunque di non cadere in provocazioni. Ve lo ripeto, cerchiamo di rendere la giornata di domani una giornata di festa. Mi raccomando non accettiamo alcuna provocazione. Tutti allo stadio con serenità e gioia e sempre Forza Napoli!